Una delle tessere del mosaico del parco della Piana che noi vogliamo. Noi ci immaginiamo un luogo che già oggi molti e molti di voi conoscono, ma che vogliamo e possa essere conosciuto e fruito da ancora più se stessi e da ancora più cittadini del nostro territorio. Un luogo nel quale, cioè accanto alla tutela della natura e della diversità, della biodiversità, ci possano essere anche spazio per tante attività, attività sportive, come già avvengono in tutta l'area del parco della Piana e come potranno avvenire qui. Come vedete c'è una palestra all'aperto, c'è uno spazio per le biciclette che ricongiunge quindi la pista e i cilabili del parco della Piana e quindi la possibilità di fruire ancora di più di questi spazi comuni per tutti e tutti i cittadini di Sesto e non solo, e unire quindi le attività sportive, le attività di tutela della natura e della biodiversità insieme anche alle attività sportive, della socialità e della socializzazione. Quindi questo è un luogo che vogliamo sia sempre di più pieno di attività. Questo luogo è un tassello in più rispetto al parco della Piana che ci immaginiamo, accanto ad attività agricole, di tutela ambientale, anche attività sportive. Grazie al Comune è comunque strappato un altro pezzetto di Piana per un concetto di parco a ampio spettro, a ampio raggio. Chiaramente la Piana non può essere, come magari qualcuno di noi vorrebbe sperare, solo un posto di protezione naturalistica. No, non può essere quello. Deve essere a disposizione della popolazione, usufruibile, ma con il rispetto dell'ambiente.